Nella primavera del 1910 c'era stato un incontro a Monaco tra alcuni psicanalisti. In quell'occasione Ferenci aveva presentato alcune sue osservazioni sulla trasmissione del pensiero, che erano state molto criticate sia da Freud ma anche da Jung. Pochi mesi dopo però anche Jung sembra interessarsi dello stesso campo e Freud lo richiama a un assetto più attento. Vienna, 12 maggio 1911. Caro amico, questa volta le sue lettere mi sono davvero mancate, più ancora delle sue notizie. Sono molto contento che dietro non vi sia qualcosa di più spiacevole. Anch'io ho attraversato un periodo di malessere e posso dire senza esagerazione che adesso sono intellettualmente proprio vuoto. Mi rendo conto che un'intima inclinazione la induce a darsi allo studio dell'occulto e non dubito che saprà tornare in patria con un ricco bottino. Non c'è nulla da obiettarle ed è sempre giusto che un uomo segua i suoi impulsi. La fama che si è guadagnata con la demenzia contrasterà per un pezzo l'accusa di misticismo. Però non si trattenga troppo a lungo nelle colonie tropicali. È a casa che c'è da fare. La saluto cordialmente e spero che mi scriva dopo un più breve intervallo. Suo affezionato Freud Surigo, 12 giugno 1911 Caro professore, il periodo intercorso dalla mia ultima lettera, e l'ha abbastanza lungo, l'ho però sfruttato bene. Sono stato all'assemblea degli psichiatri svizzeri a Lausanne e ho parlato sulle forme di fantasia inconscia. Le mie serate sono praticamente accaparrate dall'astrologia. Faccio calcoli di oroscopi per scoprire il loro contenuto psicologico di verità. Finora alcune cose notevoli che le sembreranno certo incredibili. Nel caso di una signora, il calcolo delle posizioni astrali ha dato come risultato un quadro caratteriale perfettamente definito con alcuni avvenimenti precisi del suo destino. Il quadro però apparteneva a sua madre, non a lei. Ma i dati caratteristici sembravano tagliati su misura. La signora soffre di uno straordinario complesso materno. Devo dire che è ben possibile che si scopra un giorno nell'astrologia un bel po' di scienza giuntavi per via d'intuizione e che è finita in cielo. Pare per esempio che i segni zodiacali siano quadri caratteriali, cioè simboli libidici che rappresentano le varie caratteristiche libidiche tipiche. Con cordialissimi saluti, suo devotissimo Jung. Vienna, 15 giugno 1911 Caro amico, non sono in grado come lei di riferire su lavori interessanti e risultati sorprendenti. Io sono stanco e conto i giorni. Perciò non mi sono sottoposto neppure io alla fatica di scrivere lettere e non le ho fatto alcuna richiesta. In fatto di occultismo, sono diventato umile dopo la grande lezione delle esperienze di Ferenzi. Prometto di accettare tutto ciò che possa sembrare almeno un po' ragionevole e, come lei sa, non lo faccio con piacere. Ma da allora la mia Ubris è andata in frantumi. Mi piacerebbe sapere che lei e Ferenzi agiscono all'unisono quando uno di loro due sarà pronto ad affrontare il pericoloso passo della pubblicazione. E penso che ciò potrebbe essere del tutto compatibile con una piena indipendenza di entrambi nel corso del lavoro. Cordiali saluti a lei e alla bella casa dal suo affezionato Freud. Come si vede le posizioni di partenza sono molto diverse e Freud sembra assai preoccupato e nelle lettere suonano continui gli inviti alla prudenza. D'altra parte va notato che l'interesse di Jung per l'occultismo è invece un interesse di antica data. Già nella sua tesi di laurea che porta il titolo Psicologia e patologia dei fenomeni occulti Jung si era appunto occupato di questi problemi. Anche l'interesse di Ferenz era di antica data. Ora il ritorno di Jung a questi temi mi sembra che possa essere interpretato come un ritorno a un terreno che Jung sente più suo e meno suscettibile di ricadere sotto l'influenza di Freud. Probabilmente le posizioni differenti e che diventeranno sempre più differenziate possono essere fatte risalire anche a due matrici culturali diverse. Jung a Zurigo aveva avuto una matrice culturale soprattutto di studi umanistici una matrice anche psichiatrica. Invece tutti i primi studi di Freud sono degli studi nel campo biologico e neurofisiologico. Si può forse dando delle limitazioni molto vaste dire che Freud si situa all'interno di una ricca cultura positivistica che in quei tempi era molto florida a Vienne mentre Jung già incomincia ad essere molto influenzato dalle posizioni di Nietzsche. Sull'argomento occultismo già una volta si era sviluppato un contrasto che però era poi subito rientrato. Jung aveva fatto visita a Freud e durante questa sua visita si erano manifestati dei fenomeni strani. a riguardo si potrebbe leggere proprio una lettera in cui Freud risponde una volta liberatosi dalla presenza così fascinosa insieme inquietante di Jung sui fenomeni che Jung aveva sottoposto alla sua attenzione. Vienne 16 aprile 1909 Caro amico spero che questa lettera non giunga troppo presto nelle sue mani lei capirà perché scrivo dunque soltanto per non dover mettere in frigorifero lo stato d'animo provocato dalla sua lettera. Da Venezia dove avevo fatto una gita pasquale nella vana speranza di procurarmi prima del tempo un poco di sensazione di primavera e di riposo scrissi a sua moglie una cartola perché pensavo che lei fosse già in giro per l'Italia settentrionale in bicicletta. È notevole il fatto che la stessa sera nella quale io la adottai formalmente come figlio maggiore e la consacrai come successore e principe ereditario partibus infidelium che quella stessa sera lei mi spogliò della dignità azione che a lei sembra essere tanto piaciuta quanto a me per contro l'investitura della sua persona. Ora temo di dover ricadere nei suoi riguardi nella parte del padre parlando della mia reazione alla storia degli spiriti che si fanno sentire battendo dei culi ma devo farlo e che le cose stanno diversamente da quanto lei altrimenti potrebbe credere. Io non nego dunque che le sue storie e il suo esperimento mi abbiano fortemente impressionato. Dopo che lei fu andato via mi proposi di fare delle osservazioni ed ecco qui i risultati. Nella mia prima stanza vi è uno scricchiolio continuo laddove le due pesanti stelle egiziane sono posate sui ripiani di quercia della libreria. La cosa dunque è troppo evidente. Nell'altra stanza laddove l'abbiamo udito lo scricchiolio è molto raro. Dapprima volevo considerare con una prova se il rumore così frequente durante la sua visita fosse completamente cessato in sua assenza. Invece da allora si è ripetuto alcune volte ma mai in connessione con i miei pensieri e mai quando pensavo a lei o a questo suo problema specifico. Anche in questo momento no aggiungo come sfida. L'osservazione fu poi ben presto svuotata di significato da altri fattori. La mia credulità o perlomeno disposizione a credere sparì completamente non appena cessò il fascino della sua presenza personale qui. Per certi motivi interiori è per me assolutamente inverosimile che qualcosa del genere possa avvenire. I mobili se ne stanno davanti a me esanimi come la natura sdivinizzata davanti al poete dopo che gli dèi della Grecia se ne andarono. E allora mi rimetto i dignitosi occhiali di padre e ammonisco il caro figlio a mantenere la testa fredda e a preferire di non intendere certe cose piuttosto che sacrificare troppo al desiderio di tempo. Ancora abbiamo bisogno della nostra guida verso le quali noi con il nostro diritto curto e le nostre gambe stanche non possiamo seguirle. Con il diritto che mi dà l'età inoltre divento chiacchierone e racconto di un'altra cosa tra cielo e terra che non si riesce a capire. Alcuni anni fa scoprì di essere convinto di dover morire tra il 61esimo e il 62esimo anno di età termine che allora mi pareva abbastanza lungo oggi ci mancano soltanto otto. Andai poi in Grecia con mio fratello e qui diventò addirittura inquietante il modo in cui il numero 61 o 60 in connessione con uno o due ritornava continuamente in tutte le occasioni in cui si nominavano oggetti numerati in particolare mezzi di trasporto cosa di cui presi coscienziosamente note. Ero già di umore depresso e nell'albergo ad Atene quando ci fu assegnata una camera al primo piano speravo di poter prendere fiato perché il numero 61 era fuori questione. certo ma mi toccò il numero 31 con licenza fatalistica in proprio la metà di 61 o 62 questo numero più recente più vivace mi perseguitò ancora più ostinatamente del primo. Dal ritorno in poi fino a tempi molto recenti il 31 nella cui vicinanza si trovava volentieri un 2 mi rimase fedele poiché anch'io nel mio sistema o delle zone in cui ho soltanto il desiderio di sapere non sono affatto superstizioso ho cercato da quel momento di analizzare quella mia convinzione ecco il risultato dell'analisi quella convinzione sorse nell'anno 1899 a quell'epoca avvennero contemporaneamente due cose in primo luogo scrissi l'interpretazione dei sogni che è uscita nel 1900 con una data anticipata in secondo luogo mi fu assegnato un nuovo numero di telefono che ho ancora oggi 14362 è facile stabilire da questi due fatti un elemento comune nel 1899 quando scrissi l'interpretazione dei sogni avevo 43 anni che cosa c'era di più naturale se non che le altre cifre significassero la fine della mia vita 61 o 62 ecco che improvvisamente il metodo subentra nella follia la superstizione che io vivrò dai 61 ai 62 anni risulta essere l'equivalente della convinzione che con l'interpretazione dei sogni io avrei adempiuto il compito della mia vita non ho più bisogno di fare altro posso morire tranquillo ammetterà dopo questa spiegazione che la cosa non suona più così assurda del resto vi si trova anche la segreta influenza di Fliss nell'anno del suo attacco ebbe inizio quella superstizione lei troverà confermata la natura specificamente ebraica della mia mistica quanto a me io sono semplicemente incline a dire che avventure come quella del numero 61 possono trovare spiegazione grazie a due fattori in primo luogo grazie all'attenzione enormemente accresciuta dell'inconscio la quale vede una Elena in ogni donna e in secondo luogo grazie alla condiscendenza del caso che è innegabilmente presente e che nella formazione del delirio ha la stessa funzione che la condiscendenza somatica ha nel sintomo isterico quella linguistica nella battuta di spirito dunque apprenderò con interesse altre notizie sulle sue ricerche a proposito del complesso degli spiriti e le considererò un grazioso delirio dal quale siamo esclusi con cordiali saluti per lei signora e figli suo Freud grazie a tutti